Ancora il rifiuti in via Monte Pellegrino a Palermo, dove i cassonetti colmi di immondizie e le lamentele dei cittadini fanno da cornice a una situazione più volte incontrata in città. Già dallo scorso mese questa via rappresentava uno dei punti critici della città a causa della continua presenza dei rifiuti provenienti dal mercato ortofrutticolo. Il mercato infatti è già attivo fin dalle 4 del mattino e per questo motivo già alle 8 i residenti trovano tutti i cassonetti pieni fino all'orlo nonostante i regolari interventi della RAP. E si trova di tutto, scarti di ortaggi, cassette di legno per la frutta, sacchetti sparsi lungo tutto il marciapiede e anche su parte della carreggiata. Le proteste arrivano direttamente dal Consiglio Comunale di Palermo che proprio lo scorso mese ha approvato una mozione, affirma IDV, per ripristinare il decoro in via Monte Pellegrino. Ormai una discarica a cielo aperto aveva commentato Filippo Occhipinti, capogruppo IDV. Il mercato ortofrutticolo e alcuni operatori rendono la strada un tappeto di rifiuti e scarti fin dal mattino. Resti di ortaggi, verdura e frutta si ritrovano sia sulla strada che nei cassonetti, perennemente pieni, il che provoca odori terribili specialmente nei mesi più caldi, con buona pace dei residenti e dei turisti che soggiornano nel vicino hotel. Una situazione definita di piena emergenza sanitaria per la quale il Consiglio ha chiesto una presenza costante della Polizia Municipale e interventi da parte della RAP dal mattino fino alla fine del mercato.